...che non ha senso se noi non diamo una motivazione politica e anche se noi decidessimo la fusione, il punto non è mettere insieme quello che c'è, il punto è cogliere che noi siamo pezzi di una traiettoria, c'è una traiettoria di cambiamento dentro la quale dobbiamo andarci a collocare e allora noi lo spazio lo dobbiamo aprire, non chiudere perché quello che accadrà non è solo la crisi del PDR e nel momento in cui decadenza o non decadenza si aprirà questo passaggio, il Partito Democratico è condannato alla crisi. Grazie a tutti!